Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Nel video di oggi parliamo ancora del fumetto Samuel Stern. Siamo arrivati al numero 4, il titolo è L'Isola dei Perduti. È uscito a marzo 2020, non ho fatto subito la recensione perché onestamente, ve lo dico in modo molto sincero, in questo periodo un po' triste per il motivo che sappiamo tutti, che è il coronavirus, il fatto che siamo tutti segregati in casa, anche se quando l'ho preso non era ancora attiva la zona rossa, non me la sentivo di leggere proprio un fumetto che come titolo aveva L'Isola dei Perduti e col protagonista che faceva stage diving in una pila di cadaveri. Quindi non avevo proprio sentimento per leggerlo, quindi scusate il mio ritardo. Nel frattempo ho fatto un video che mi hanno richiesto sul film di Jim Carrey Una settimana da Dio, che è un pochino più allegro, però restiamo nell'argomento divino perché adesso l'ho letto questo fumetto e sono stato anche molto felice di averlo letto perché comunque in qualche modo si parla anche qui di contagio, ma poi andiamo meglio a vedere. Prima di cominciare seriamente vi invito a iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo con tutte le persone che conoscete che amano i fumetti italiani, di attivare la campanella delle notifiche e importantissimo vi chiedo in particolar modo in questi video di fumetti di commentare, dato che molti nuovi follower, molti nuovi iscritti li ho guadagnati parlando di fumetti, mi piacerebbe che mi scrivete se avete visto anche questo video perché io non vedo chi ha visto quale video, quindi quando lo vedete scrivetemelo nei commenti così io so più o meno quali video preferite di più e mi muovo di conseguenza. Allora, Samuel Stern, l'isola dei perduti, mi piace che si entra finalmente nel vivo, si tocca finalmente un argomento molto preciso, cioè quello degli esorcismi in senso stretto, non c'è più solo padre Duncan ma c'è anche un altro prete su questa isola che si va a vedere che rincarna proprio lo stereotipo del prete chiuso, del prete che non vede le zone grigie, vede solo bianco e nero e quindi condanna tutto ciò che è fuori dal precetto cattolico perché quando parlo di preti in Samuel Stern mi riferisco proprio a preti cattolici, ci tengo a dirlo perché innanzitutto siamo in Scozia, quindi la maggioranza delle credenze sono protestanti, sono chiesi cristiane ma protestanti, mentre padre Duncan, che è chiaramente irlandese, è invece cattolico, lo scoprite dal fatto che c'ha il collarino bianco, i protestanti non ce l'hanno, lo dico per chi non è avvezzo queste cose de chiesa, no? Ok? Quindi appunto quando vedete un altro prete, in questo caso sempre col collarino, si parla sempre di preti cattolici, quindi questo prete, questo padre Andreas, Andreas, diciamo è amareggiato dalla vita e quindi è un padre anziano, comunque amareggiato dalla vita e quindi ha reagito un po' a quello che gli è successo lungo la sua vita, chiudendosi proprio a quello che apparentemente è un fanatismo cattolico. Ci tengo a dire che io sono contro ogni fanatismo a prescindere, ok? Che sia cattolico, che sia islamico, che sia... Allora, io non sono contro le religioni, anzi ho un passato comunque molto da credente, l'ho detto anche nel video Una settimana da Dio, credo che la fede possa aiutare a dare speranza alla persona che la segue, ma allo stesso tempo la fede cieca, la religione che relega appunto la mente, il cuore a certi precetti ormai antichi, li rilega tal punto che si crea odio verso tutto ciò che è diverso dalle proprie credenze, io questa cosa la rigetto totalmente, ci tengo a precisarlo, nel caso vi siate fatti un'idea sbagliata nello scorso video di Una settimana da Dio. Detto ciò, mi piace proprio che nel quarto capitolo ci sia questo scontro tra padre Duncan, che comunque è un sacerdote pur sempre cattolico, ma che ha già visto la sua buona dose di demoni, che frequenta Samuel Stern, che quindi diciamo è un attimino più aperto, contro questo padre invece Andreas. In tutto questo c'è di mezzo una ragazza scomparsa, che è arrivata su questa isola, l'isola di Muck, che significa isola di letame. Questa ragazza pare che sia una viaggiatrice, una giramondo, una che probabilmente ha vinto un viaggio come taste hunter, non lo so, è finita su quest'isola di Muck, spero non a fare la taste hunter sull'isola di letame, e come nelle più, come si dice, prevedibili situazioni, una ragazza giovane venuta da fuori, con l'apertura mentale che ha solo chi viaggia lungo e largo per il mondo, accolta da quest'isola completamente chiusa al mondo esterno, da questo parroco fortemente fanaticamente cattolico, la ragazza è stata additata come miscredente, come persona che portava il male, che portava il peccato dall'esterno, e pare sia stata torturata, appare sia stata rinchiusa da qualche parte, questo suscita la rabbia, l'indignazione di Samuel Stern, che iniziamo a capire subito un pochino meglio il suo carattere, ha un carattere molto nervoso, ha sempre i nervi a fior di pelle, quando si parla di queste cose non li va giù, neanche per un attimo, che ci siano queste realtà nel 2020, perché appunto il fumetto è ambientato nel 2020, e lo dice chiaramente Samuel Stern, si parla di inquisizione nel 2020, ed è una cosa inconcepibile, e la cosa buffa è che anche nella realtà, senza andare sull'isola di Mack, nonostante siamo nel 2020, ci siano ancora delle inquisizioni, delle inquisizioni relative dalla società nostra, che è pseudo-cattolica, se posso tollerare certi atteggiamenti da chi ha la mentalità chiusa, dalla propria religione, non li posso tollerare dalle persone, che invece sono loro le prime a commettere i cosiddetti peccati, non hanno più nulla di religioso, tranne il moralismo, e vanno a inquisire su certe realtà, su appunto, si parla dagli omosessuali, da chi crede in altre religioni, e mi piace anche appunto come il fumetto di Samuel Stern sia comunque specchio di certe realtà, anche se continuo a pensare che per esempio rispetto al suo più famoso concorrente attualmente, che è Dylan Dogg, a cui spesso si fa riferimento mentale, Dylan Dogg appunto non si è mai concentrato su queste realtà davvero esistenti nel mondo religioso, nel mondo reale, e è sempre stato molto più metaforico. Ecco, se da un certo punto di vista potrei apprezzare di più un fumetto come Dylan Dogg, perché magari parla un pochino più a tutti, mi piace però che questo Samuel Stern tocchi temi che però esistono in modo quasi più verosimile, nonostante si parli più apertamente di demoni, lo si fa in un contesto dove ci sono realmente i preti, dove c'è realmente una mentalità ristretta in alcuni casi, la non accettazione del diverso in altri, tutti i temi che ci sono anche in Dylan Dogg, ma sono sempre presi in maniera molto aperta. Qua si va un attimino più diretti e la cosa in certi casi mi piace di più. In questo caso, per esempio, mi è piaciuto molto. Come vi ho detto, la situazione sembra abbastanza lineare. Isola con un prete super cattolico, ragazza che viene da fuori, vista come strega, additata come tale, imprigionata, torturata. Samuel Stern, il protagonista, si arrabbia, vuole andare subito a salvare l'anima della poveretta. Ma c'è un plot twist, c'è un plot twist che non vi dico adesso perché stiamo parlando un attimino così, magari se faccio la parte spoiler ne parliamo dopo. C'è un plot twist e mi piace come il fatto che ogni fumetto di Samuel Stern finora non sia così scontato. O magari alcuni sono scontati per me, ma perché mastico già questa roba in altri campi da un po', ma mi piace come ci sia sempre questo rovesciamento della situazione. Sembra quasi un film di M. Night Shyamalan. Prima però di andare a parlare della parte spoiler di questo fumetto, vorrei farvi notare una cosa che io stesso non avevo notato. mi è stato fatto notare, grazie a un collega youtuber Luca DJ, Luca Di Giacomo Antonio, vi metto magari la sua pagina in descrizione, che quando faceva la recensione di Samuel Stern, ha fatto notare come in quarta di copertina ci sia un QR code che se voi lo scannerizzate con il vostro cellulare vi aprirà un sito con altri contenuti, sono dei contenuti aggiuntivi alla storia di riferimento. Sono contenuti molto simpatici. Cosa vorrei fare per voi? Dato che, per esempio, il mio cellulare non ha di natura uno scansione di QR code, potete tranquillamente trovarlo sul Play Store scaricandolo, ce ne sono diversi, ma se per caso state già guardando questo mio video, vi metto in descrizione il link del QR code, così andate in descrizione, cliccate e vedete il contenuto che c'è cliccandolo da qui, ok? Ovviamente io in questo video vi metto il link solo dell'Isola dei Perduti, se volete andare a cercare gli altri link, ve li metto sugli altri video che ho fatto su Samuel Sterna, così vi andate a vedere anche gli altri video. I contenuti che ci sono sono davvero simpatici, oltre al contenuto dedicato per ogni storia, poi vi rimanda anche alla pagina Facebook di Samuel Sterna, che però chiaramente potete trovare tranquillamente anche in altri modi. al momento su quattro numeri ho visto che hanno fatto due tipologie di contenuto extra, a me piace di più il contenuto a realtà aumentata, poi non voglio dirvi di più perché voglio che lo scopriate voi, così magari mi fate anche sapere se vi è piaciuto o quello che volete. Prima di andare a parlare della parte spoiler, vorrei farvi soffermare su quanto siano davvero belle queste copertine, dato che adesso le avevo qua tutte e quattro per parlarvi dei QR code, vorrei farvi notare questa cosa, guardate che bella, guardate com'è pulita, c'è solo il disegno, c'è il nome della serie, c'è il titolo, diciamo, dell'episodio, sì c'è il costo che è qua, piccolino, dove c'è il logo non va a sporcare altre cose in basso, rendendo tutta questa parte pulitissima, e così tutti quanti, oh questo ha visto anche giorni migliori, chissà che cosa è successo, vedete come sono tutti puliti, alcuni addirittura se li metto vicini, questo no, questo è l'unico un po' più colorato, che quasi si discosta dagli altri, ma guardate il 2 e il 4 se li metto vicini, ci sono gli stessi colori, mi piace un sacco questa cosa, vi dico chi è che l'ha fatto, allora, copertina del numero 4, l'Isola dei Perduti, Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo, Emiliano Tanzillo, mentre la stessa infatti del numero 2, vediamo se i copertinisti sono sempre gli stessi, sì ve lo confermo subito, sì, i copertinisti sono sempre questi tre bravissimi artisti, e stanno facendo davvero un lavoro egregio, poi la parte della pulizia, qua del layout, non è dato da chi disegna la copertina, ma di chi appunto, scusate ho urtato la videocamera, ma da chi appunto fa, decide appunto come viene proposto il prodotto finale, però comunque mi è piaciuto molto, rispetto per esempio alla concorrenza bonigliana attuale, che è molto piena di scritte in questo momento, e non mi piace tantissimo, però tant'è. Bene, ora cominciamo con la parte spoiler, io do per scontato che abbiate tutti letto il fumetto, ok? Quindi parliamo liberamente della parte spoiler, 3, 2, 1. Un prete sconfitto da quello che gli è successo nella vita, rigidissimo al suo dovere, sa per certo che sta per arrivare una guerra, sta per arrivare l'Armageddon, l'apocalisse, no? dove Dio scenderà sulla terra per decidere chi merita di andare in paradiso, chi merita di andare all'inferno, come ha detto la ragazza, si sceglierà il grano che andrà nel granaio e l'erba cattiva che andrà bruciata. Questa è una metafora proprio che trovate nella Bibbia. Peccato che questo sacerdote abbia scelto fortemente da che parte stare, ma non è la parte che ci aspettiamo noi. Questo sacerdote ha innalzato una chiesa a tutti i demoni. Vi ricordo sempre che in Samuel Stern i demoni non nascono dall'inferno, ma nascono dentro di noi, e non è una metafora, nascono fisicamente dentro di noi come se fossero dei tumori, dei veri e propri tumori senzienti generati dal rancore, dall'odio represso, da tutte quelle emozioni negative. ciò nonostante questo demone prende coscienza, prende una propria vita e poi va a come un parassita, come un'atenia in questo caso, passo da una malattia all'altra, tanto siamo in tema malattie, virus in questo periodo, si crea come un tumore all'interno di noi, ma si sviluppa come un parassita, come un'atenia, al di là che anche il tumore stesso ti mangia la vita, ma al di là di quello. Questa tenia, questo verme solitario che si ha dentro, che è il demone, non può sopravvivere all'esterno di un umano, a meno che non vada in un altro umano, e se viene esorcizzato da persone come Samuel Sterna, finisce comunque in quello che noi chiamiamo inferno. Quindi c'è una via di mezzo tra una realtà creata tutta dalla fantasia degli autori di Samuel Sterna e la classica mitologia cattolica, cristiana, demoniaca a cui siamo abituati, dove c'è l'inferno, c'è il paradiso, ci sono i demoni, ci sono gli angeli. Nel nostro immaginario collettivo il demone appunto nasce dall'inferno. Il fatto che gli autori stessi si attengano strettamente alla loro linea guida è sinonimo di una grande prova di coerenza nel personaggio. Per carità, siamo solo al numero quattro, però mi piace questa cosa. E da lettore, devo ricordarmi anch'io, di tenermi a questa linea guida. Non è facile, perché sono abituato a tutte, quasi tutte le altre realtà narrative, dove appunto il demone non nasce da dentro, ma da dentro ci arriva. passando dall'inferno. Qui invece nasce da dentro di noi e poi se viene esorcizzato va all'inferno. Quindi questo sacerdote, questo padre Andrea, ha scoperto un posseduto, un solo posseduto su quest'isola, ma dal momento che già non gliene fregava più niente del suo sacerdozio, non lo ha esorcizzato, lo ha anzi studiato, ha voluto scoprire come funzionava, come andava avanti la possessione demoniaca senza esorcismo e ha scoperto appunto che il demone può prendere possesso totale della persona e ha deciso così di crearne altre. Non so come, però fondamentalmente con un esorcismo demoniaco, con un rituale al contrario, non so come possa funzionare dal momento che i demoni nascono al nostro interno. Quindi fondamentalmente ci è stato spiegato in questo numero che molti abitanti dell'isola sono riusciti a passare al lato di padre Andreas, quindi al lato del male. Quindi queste persone avevano già probabilmente un demone dentro e padre Andreas non ha fatto altro che coltivarlo. Le altre persone che, dove appunto non è sbocciato questo demone, sono state incatenate, dove abbiamo visto, per cercare di farlo sbocciare, ma anche lì, dove in alcuni è sbocciato e in altri invece ci hanno lasciato le penne. E in tutto questo magari anche la ragazza scomparsa in Isobel potrebbe essere una di queste, non lo sappiamo ancora. Allo stesso tempo i demoni comunque comunicano tra loro in qualche maniera, dato che l'isola è totalmente isolata dal resto del mondo, ciò nonostante vengono persone indemoniate completamente da fuori per abitare questa nuova isola. quindi è proprio, da qui il titolo, l'isola dei perduti, è come se si stesse creando una piccola roccaforte di demoni sulla terra. Mi è quasi dispiaciuto che alla fine comunque siano stati sconfitti questi demoni perché mi sarebbe piaciuto in un futuro vedere Samuel Stern costretto a combattere un esercito di demoni su un'isola. Quindi sarebbe stato figo. Magari è una cosa che riproporranno, non so, qualcuno che apprende l'esempio da padre Andrea si rifà la stessa cosa più in grande e Samuel Stern è costretto ad affrontarla con metodi drastici. Metodi drastici che sono stati usati anche da questa ragazza che anche lei non è ciò che sembra perché in Samuel Stern niente è ciò che sembra e questa è una cosa che mi piace un sacco. spero di non abituarmi mai al plot twist o meglio so che c'è un plot twist perché Samuel Stern ormai ce l'ha ma non è mai scontato per ora siamo sempre al numero 4 però mi piace che non sia scontato questo plot twist non me lo aspettavo io per esempio mi aspettavo che magari la ragazza fosse davvero cattiva che il prete avesse davvero ragione o che magari il prete avesse ragione ma che non fosse la ragazza quella cattiva fosse la vecchina e un po' ci avevo preso ma non così tanto. questo andare oltre le mie più orribili immaginazioni dato che si parla di demoni mi piace molto questa ragazza porta in scena con il suo personaggio l'esistenza di una specie che non avevamo visto finora che è quella che potrebbe essere definita forse un angelo dal momento che non lo lo pensavo io ma Samuel l'ha confermato perché lo dice anche lui questa qua potrebbe essere un angelo però è un angelo che è sì davvero ferrea al suo dovere tant'è che tutti questi indemoniati non li esorcizza ma li spazza via li brucia fondamentalmente questa ragazza che in realtà non è una ragazza ma era un angelo a quanto pare è venuta su quest'isola per salvare i bambini perché avevano ancora una possibilità per quello che voleva parlare con la figlia dei Mallory ma era venuta già con l'intenzione di sterminare tutti gli adulti indemoniati quindi ci mostra questo questo numero 4 ci mostra l'entrata in gioco di forze superiori finora sconosciute che pur giocando dalla parte di Samuel Stern usano metodi totalmente diversi da Samuel Stern totalmente drastici questa formula si è già vista in altre realtà dove appunto c'è non lo so in un poliziesco c'è arriva l'esercito e usa un pugno molto più duro rispetto al protagonista che è molto più accomodante ma portata su questo gioco di demone e di angeli mi piace un casino mi piace molto perché il protagonista è nel mezzo non è nemmeno tendente alla parte ok non è Constantine è tendente alla parte del bene ma non è dalla parte della chiesa lui cerca proprio di salvare le persone cerca di estirpare i demoni di sbatterli all'inferno per salvare la persona qua invece vediamo che l'angelo gioca proprio la battaglia per l'apocalisse e le persone indemoniate non gli interessa salvarle gli interessa che non ci siano persone indemoniate al costo anche di rinunciare alla vita delle persone che ne sono possedute quindi questo triangolo bene male Samuel Stern quindi umanità paradiso e inferno che ognuno ha il suo non torna conto ognuno ha il suo obiettivo di cose da salvare mi piace molto di più di quello che poteva essere fino a prima il tipico gioco tratti esorcizzo dal male quindi io sono buono e finisce lì credo che l'autore che è Giancarlo Fumasoli ve l'ho già detto negli altri video abbia un piano ben preciso per il suo personaggio non sta facendo delle storie singole e basta cioè le storie hanno una trama verticale molto solida e non c'è una trama orizzontale pesante come in che cacchio ne so nell'ultima stagione di Buffy The Vampire Slayer ma ciò nonostante ci sta mettendo in ogni numero ci sta facendo scoprire qualcosa di questo mondo che ha creato di Samuel Stern che sicuramente porterà a qualcosa porterà a un crescendo finale finale per modo di dire perché questi numeri da edicola si suppone vadano avanti all'infinito però potrebbero esserci magari delle macro trame e sembra sicuramente c'è una continuità una linearità una continuità maggiore che non nel ciclo della meteora di Dylan Dog dove è palese la confusione sul fatto che molti numeri erano connessi solo perché qualcuno nominava la meteora ma in realtà non c'era una vera trama verticale scusate trama orizzontale forse proprio per paura che gli affezionati storici di Dylan Dog non capissero cos'è una trama orizzontale non l'apprezzassero quindi hanno fatto questa via di mezzo che è stato un po' un pasticcio adesso invece al contrario dal 401 al 406 c'è una trama orizzontale totale al momento non ho visto due numeri del nuovo ciclo di Dylan Dog ma pare che non ci siano trame verticali c'è solo una grossa trama orizzontale in questo nuovo Dylan Dog barbuto qua invece riescono a fare entrambe le cose tenendo la cosa perfettamente in equilibrio uso la parola equilibrio perché l'ha usata anche l'angelo questo angelo parla proprio di equilibrio è strano che un angelo parli di equilibrio un angelo dovrebbe tifare per il bene a discapito del male qua invece parla di equilibrio come se ci fossero troppi demoni e avesse voluto ristabilire l'ordine quindi forse magari non è neanche un angelo forse è un'entità ancora a sé sicuramente la rivedremo in altri numeri di Samuel Stern quindi voglio proprio vedere dove andremo a parare bene con questo è tutto scusate se ho fatto una chiacchierata così senza preparare chissà quale recensione fatemi sapere se vi piace o se preferite una recensione più classica più schematica me lo scrivete nei commenti io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video